Mettere in campo delle pratiche virtuose significa aiutare l'ambiente che ci circonda ad essere più sano. Queste le parole rilasciate ai nostri microfoni, dal presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, Tommaso Pellegrino, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto di educazione e sensibilizzazione ambientale, Acqua sì, ma plastic free. Il piano, che ha finalità civico-educative, mira a promuovere nei più giovani il corretto utilizzo dell'acqua potabile, limitando la circolazione di plastica e di prodotti monouso. Oggi inizia la consegna ufficiale delle Borracine, questa bella sinergia che abbiamo messo in campo con il CONSAC, con Lega Ambiente, perché l'obiettivo è quello di sensibilizzare, di far capire l'importanza di quello che noi stiamo facendo. Oggi non c'è un semplice slogan plastic free, ma qui c'è un investimento per il futuro, c'è una tutela per il futuro per i nostri figli. Oggi avere delle buone pratiche e soprattutto anche pensare che mettere in campo iniziative per il riuso, per il riciclo della plastica e per la limitazione anche dell'uso, perché in alcuni casi, come nelle scuole, si può tranquillamente utilizzare la borracina che noi distribuiamo, noi facciamo del bene all'ambiente. Fare del bene all'ambiente oggi significa fare del bene alla nostra salute, perché il binomio ambiente salute è inscindibile e oggi finalmente è al centro dell'attenzione anche delle politiche nazionali e dall'altra parte soprattutto facciamo un investimento per il futuro perché tuteliamo la salute dei nostri figli. Cioè oggi mettere in campo delle pratiche virtuose significa certamente aiutare l'ambiente che ci circonda ad essere più sano e quindi essere più sani anche noi per quanto riguarda l'aspetto legato alla salute. Tra l'altro noi come parco, proprio qualche giorno fa, stiamo continuando a monitorare e mettere in campo iniziative che vanno nella direzione della plastic free, quell'impegno che abbiamo assunto. Tutte le iniziative che si svolgeranno e che si realizzeranno nella nostra area protetta non avranno il patrocino del parco, non avranno i finanziamenti del parco se non dichiarano di essere plastic free e quindi non mettono in campo azioni virtuose che così come noi più volte abbiamo dichiarato. Partendo dalle scuole diamo un'indicazione anche agli adulti di oggi e invece il pensiero del presidente di CONSAC, gestione idriche e seppiaggio in Aromaione visto che nell'ambito del progetto saranno coinvolte attivamente 13.000 alunni delle scuole dell'infanzia e primarie del Cilento e Vallodiniano a cui, nell'ambito di attività e percorsi didattici specifici saranno distribuite altrettante borracce in alluminio riutilizzabili. Acqua sì, acqua sì perché io dico importante che utilizziamo l'acqua che esce dai nostri rubinetti noi già nello scorso anno abbiamo fatto una campagna nelle scuole per dire ai ragazzi di questo territorio bevete l'acqua che esce dal rubinetto è più controllata e più sicura di quella via minerale e poi rispetta molto di più l'ambiente con interventi che siamo riusciti a realizzare in questi tre anni a CONSAC abbiamo anche colmato quei problemi che esistevano in alcune aree del nostro territorio tenevamo alcuni comuni del Golfo di Policastro, Camerota e la Sesta Centola il problema su Monte Corice e Pollica che nei periodi estivi vivevano da sempre delle sofferenze idriche con interventi puntuali che in parte realizzati, in parte finiremo di realizzare per l'estate noi avremo acqua ovunque, avremo acqua del nostro territorio, acqua a chilometro zero, acqua controllata e buona quindi utilizziamo l'acqua e non le lattine di plastica